La Commissione Europa ha lavorato intensamente con un clima per il quale io non posso che ringraziare tutte le commissarie e tutti i commissari. Ci siamo posti sin dall'inizio l'obiettivo di dare non soltanto visibilità e profondità alla riflessione sui temi europei ma di offrire elementi sui quali costruire anche un percorso. La prima edizione della Festa dell'Europa in Toscana ha avuto questo obiettivo. Sono personalmente molto soddisfatto della collaborazione di tutti i soggetti che hanno fornito il loro supporto e soprattutto sono onorato dei contributi che sono arrivati dal Presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli, l'intervento del Presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni, il Presidente dell'Istituto europeo e ovviamente il supporto del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Una prima edizione che mette in condizione di avviare un lavoro e che ci accompagnerà nei prossimi anni avendo come obiettivo il dialogo e soprattutto la condivisione di idee proposte e sollecitazioni da parte delle giovani generazioni soprattutto perché l'Europa noi dobbiamo farla crescere guardando soprattutto al domani.